Certamente che abbiamo avuto paura non solo io, era il tardo pomeriggio che stavamo in casa quando si sono incominciate a sentire delle urla e si gridava in quanto il castello, le mura perimetrali del castello erano state invase da fiamme che si alzavano a decine e decine di metri. All'improvviso mi sono sentita male, mio marito mi ha dovuto portare fuori a prendere aria pura, mi sono sentita veramente male, era irrespirabile, l'aria proprio irrespirabile. Tanta, tantissima paura, attimi di terrore, momenti concitati, poi il silenzio, uno scenario apocalittico quello che state vedendo nelle immagini, testimonia ancora una volta la gravità dell'incendio avvenuto lo scorso 14 agosto nell'Alto Casertano a Rocchetta e Croce, uno dei più piccoli comuni della Campania, un incendio che ha praticamente distrutto Montemaggiore, quest'ultimo è anche un simbolo, una sorta di paravento dal freddo e ventoso Matese che per decenni ha prodotto anche tanta economia per le famiglie di questo borgo. Una comunità ferita, il sindaco è l'icona perfetta in questo momento drammatico per l'ambiente e la sua piccola comunità. Sindaco, allora a questo punto che cosa succede? Io ricordo a me stesso che il nostro territorio è un humus fondato sulla roccia, di conseguenza rischiamo con le prime piogge e con le piogge successive che ci saranno uno slittamento e uno scivolamento del territorio a valle. Consideriamo gli abitanti di Rocchetta, consideriamo gli abitanti della valle che abbiamo sotto, potremmo avere una seconda sarno. A tale proposito ho chiesto udienza al governatore De Luca attraverso il presidente dell'UNCEM, il dottore Enzo Luciani. E' un'udienza veloce in modo che possiamo inserire i primi interventi, lui possa inserire i primi interventi nel PNR e quindi intervenire energicamente sul territorio. Perché così come il fuoco, se fossero intervenuti energicamente tutto questo non sarebbe accaduto, l'avremmo bloccato sul nascere, così questo episodio adesso futuro, se non riusciamo in questo momento ad attrarre dei finanziamenti per bloccare l'irreparabile avremo una seconda sarno. E quindi questa è la mia richiesta al nostro governatore, governatore sensibile al territorio, sensibile alle nostre comunità. E quindi, grazie governatore, questo è un paese interno del casertano che ha bisogno di lei in questo momento, ha bisogno della regione Campania. Ma ora c'è anche chi conta i danni, la sua casa divorata in parte dalle fiamme. Che racconta? Allora io stavo in ferie, sono ritornato e ho trovato la casa bruciata. Mi ha chiamato il signor Nando e ha detto vieni qua perché si sta incendiando la tua abitazione. Quindi lei è diciamo che è una delle famiglie evacuate. Adesso sono appoggiato da mio padre, purtroppo si è bruciato tutto, stanza da letto, copertura e il danno è abbastanza molto grave. Da Rocchetta e Croce è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it